C'è un proverbio decisamente C'è un proverbio decisamente pessimista che dice Se vendessi candele il sole non tramonterebbe mai A quanto pare invece oggi col meteo abbiamo avuto fortuna Il sole splende alto nel cielo azzurro Non c'è nemmeno l'ombra di una lupola E una piacevole brezza rinfresca l'aria del pomeriggio Il tempo è perfetto per giocare una partita di pallone E come detto non c'è neanche bisogno delle candele E questa è una struttura di poco superlativa Una cornice perfetta per partite come queste Una gara che non mette nulla in palio Ma che sono sicuro stimolerà la curiosità di ben più di qualche spettatore a casa Senz'altro da questa gara non dipende nulla Ma potrebbe essere uno stimolo per i due allenatori di sperimentare nuovi moduli Potremmo assistere a un incontro giocato a viso aperto Di certo Azione fallosa e se ne avviede l'arbitro Ha messo la prova al portiere Direi che il portiere è stato impeccabile È difficile fare meglio di così Va via di forza Cerca di pescare il compagno col filtrante Riceve un pallone interessante C'è l'opportunità per il contropiede Se ne va Prova il tiro Apre le marcature Ed è il primo gol della gara Doveva solo spingerla in rete È un gol facile per lui Giocata davvero molto intelligente Fai gol E la partita inizia alla grande Subito gol Conti Ha spazio sulla fascia Può cercare il taglio in mezzo Credo si tratti di rimessa dal fondo Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione Il portiere la spedisce su Si ferma qui la manovra Prova a verticalizzare Scatta verso il pallone Si fa trovare sulla traiettoria E sventa un'azione rischiosa Arriva nella tre quarti avversaria Conti Riceve in posizione interessante Ci mette una pezza Prova a giocarla in profondità Opportunità di ripartire Grande occasione Allontana il pericolo L'azione riprenderà con una rimessa laterale Tentativo di allungare il gioco Cerca il numero Occhio al traversone Incolnata E' mancata un po' di precisione Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale E' grande l'occasione che si sono riusciti a creare E' chiaro che la difesa doveva fare di più Non si può lasciare crossare con tanta facilità C'è la palla lunga in avanti Riceve in ottima posizione Sulla fascia E' libero Cerca il colpo di testa Tutto bello Ma la conclusione non va a segno Ci hanno provato sul sedio Portando molti uomini all'interno dell'area di indore Allarga il gioco a destra Ai ai Stanno correndo rischi davvero inutili Pronto al tiro Pallone fuori davvero di pochissimo Gran peccato La conclusione è uscita Peccato Almeno avrebbe potuto impegnare il portiere Ottima pressione la sua Palla recuperata Qui può partire il contropiede La mette sulla sinistra Ottimo scambio Solti con credenza Ma non è finita Occasione fallita E' stato sfortunato Un contropiede molto ben gestito Ma la conclusione è stata deludente E' ben posizionato E spazia via la palla Chance per tirare Prova a scalaccare avversario Con una palla lunga E no niente E' finito in fuori gioco Il portiere la calcia lontano Occhio al tiro Decisamente fuori bersaglio La sua conclusione L'azione di contropiede E' stata veramente ottima Peccato per il tiro Non irresistibile Cercano di rilanciare L'azione dalle retrovie Fa avanzare l'azione Con il lancio lungo Circa spazio Attenzione al tiro Occusione sul fondo L'efficienza nel contrattacco E' una delle migliori opzioni A loro disposizione Devono essere più cinici Ballone lungo In verticale Pallone intercettato Tempestivamente L'azione poteva diventare Davvero pericolosa Attenzione Negandes Va a concludere Salpati dal palo C'è andato molto vicino Però non ha trovato la porta Palo Veramente sfortunato Non è entrata Per una questione di centimetri Scodella in avanti E' libero di creare pericolo Cross deviato dal difessore Sarà a calcio d'angolo Allontana la mia acce E' la palla Devi approfittarne Contrasto irregolare Dunque calcio di punizione E l'arbitro manda tutti A prendere un dec caldo Finendo il primo tempo Finiscono così 45 minuti di calcio Una prima parte Non certo avara di emozioni Nonostante Ci sia un solo gol A referpa Hanno giocato Complessivamente bene Ma sono mancati In fase realizzativa Sono sicuro Che nel secondo tempo Faranno di tutto Per recuperare Si riprende con il secondo tempo La squadra in svantaggio Non deve innervosirsi E gettarsi in avanti In modo scomposto C'è ancora tutto il secondo tempo Per ribaltare il risultato Sceglie di battere corto Prova ad andare via Con eleganza Effetto al cross Prova a cambiare la situazione Con una giocata in avanti Prova con la palla lunga Bel lancio In profondità Iniziativa promettente Ma gli avversari Hanno fatto buona guardia Scatta verso il pallone Grande movimento nello spazio La mette in mezzo Ancora sotto Hanno bisogno di cuore E forse di un colpo di fortuna Per aggiustare la situazione Gerson Conti Ci prova E ecco il colpo di testa Ottimo tentativo Ma non trova il gol Ha provato Ma niente di fatto Non si darà per vinto Fabio Ci riproverà La chiave del match È da ricercare nel possesso palla Stanno concedendo troppo Da quel punto di vista Pallone alto nello spazio Ecco il tiro Si era creato una buona occasione Col dribbling Però non l'ha concretizzata Allontana Palla allontanata Senza troppi complimenti È proprio questo che devono fare Devono insistere Sta a loro dare il massimo In questa fase Avanzando il più possibile Proprio così E il portiere dice di no È stato splendido L'intervento del portiere Una parata eccezionale Ha avuto un riflesso pelino Che in pochi si aspettavano Forse nemmeno i suoi compagni Deviazione di testa E non trova la porta Davvero per pochi centimetri Esito sfortunato Ma ha spaventato Non poco gli avversari Lungo passaggio in avanti Circo lo scolpisce Questo errore potrebbe essere di fatale È in posizione per il cross E va a colpire di testa Ottima l'azione Conclusione però non all'altezza Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale È grande l'occasione che si sono riusciti a creare È chiaro che la difesa doveva fare di più Non si può lasciare crossare Con tanta facilità C'è la palla lunga in avanti Passaggio sulla destra Tocco morbido Riceve il passaggio Insomma Qui dovevano chiudere la partita E non ce l'hanno fatta Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto Devono pareggiare E fanno bene a prendersi qualche rischio Anche i difensori Per accompagnare la manovra Palla in avanti Verso il compagno Stanno cercando di chiudere la partita Facendo un altro gol La mette in avanti A questo punto del match Non possono restare Nella Balla parata Stanno correndo rischi davvero inutili Pelle Dicinissimi al gol del 2-0 Che delusione Un altro gol avrebbe messo gli avversari In estrema difficoltà Fa avanzare l'azione sulla fascia Devono cercare di essere più concreti Se vogliono recuperare La giocalin Può colpire Meglio in questa circolazione della palla Non hanno più tanto tempo per rimediare Bell'anticipo Pericolo sventato Fa avanzare l'azione Con il lancio lungo Vediamo se può capitalizzare Beh, direi che adesso è il recupero del recupero Alza la palla in profondità Verso un compagno L'arbitro interrompe l'azione Credo sia fuori gioco Eccolo il triplice fischio Il fischio che determina la fine della gara Non ha giocato male la difesa Davanti però Poco e niente Poco cinici Gli attaccanti E alla fine Ne è uscito un risultato negativo Una prestazione deludente la loro Dopo aver Grazie a tutti